Assessore, Andorra si appresta a vivere una giornata particolare sabato che vuole un po' celebrare la fine dell'estate. Sì, con lo show di Jericala noi vogliamo chiudere la nostra estate turistica e vogliamo celebrare tutta la nostra estate di manifestazioni con questa giornata di Endless Summer dove dalle ore 16.30 fino alle ore 23 proporremo una serie di eventi che culmineranno proprio con lo show di Jericala. Partiremo dalle 16.30 del pomeriggio con dei DJ7 per i bambini, una serie di eventi collaterali quali Lady Melody che ci proporrà un'esibizione con le bolle di sapone, un viaggio nel mondo degli anni Ottanta, poi dalle ore 20 una sfilata in Piazza Santa Maria e dalle ore 21 Jericala e la sua band che ci regaleranno due ore di spettacolo emozionante e divertente sicuramente. Molti dei protagonisti si sono già esibiti durante l'estate quindi anche un modo un po' per celebrare la loro partecipazione ad Andorra. Sì, è una sorta di ringraziamento nei confronti di tutte le persone che hanno collaborato e ci hanno reso un'estate molto ricca di manifestazioni ad Andorra. Quindi riproporremo in piccolo una serie di eventi collaterali e di serate già fatte in tutta l'estate. Una serata che avete fortemente voluto come amministrazione. Sì, il sindaco De Michelis ha voluto proprio fare un evento e questo primo evento che verrà riproposto poi negli anni, questo Endless Summer, proprio con questo scopo, quello di chiudere la nostra estate, il nostro luglio-agosto che è stato un agosto molto ricco di manifestazioni con questo assunto che quest'anno vede Jericala come protagonista e il prossimo anno avremo altri ospiti sempre di livello nazionale. Grazie a tutti.